No, è pure no, è vero Luigi. Cosa stai che si deve fare? Il mio porno però. Voglio farvi vedere il mio ping. Ok, per sé, per sé. Mi sta laggando a runi. Guarda quanto tu mi ha. Guarda, hai fatto la repression. Bella. Allora, andiamo. No, no, no. Non ti può fare. Vai che dietro non l'hai messo? No, scuola, scuola. C'è una montagna davanti, no? Come here, come here, b***h. Oh! Ok, no. What? Ma? Mucca c'è della faccia qua. Ma? No. 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 Lo so nemmeno lo so io perché l'abbiamo detto Quello per il mira Pazzito coglione di me Ma per me puoi saltare in aria Ok vieni qua Faccio un twitch invisibile Ma io non li vedo che i due cazzo sparano Ma silenzio fuori si No cacca Sono da qui a dentro Però non se No mamma mia No si che però posso dire ma tu almeno Mi sento i due vici più soppi di quella che fa la disfaccia proletta Mi sto sentendo minimamente E' sta diventando Sì c'è Oh ma c'è troppo caldo porca buttaneva Oh devi c'è un po' a lei Mi sento Le botole Ho chiamato un po' a lei Corretto 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 Ho messo due partite oggi Il bambino è alto muro qua grazie Di sotto Perfetto Perfetto Ma basta di prendermi tutto No tu fai più schifo di Mauro Devi essere tu stesso Non devi coprire gli altri Io così sono cresciuto No è vero devi coprire sul punto gabb No è solo a gabb Vabbè gabb è legale Cazzo ridi Le gabb è solo legale Io no Ma che palle l'arma di mira No Oh iiii Ma no no che sono in live Che poi i miei fans ci credono Eee no No Non lo so E' la che cazzo Si la faccio pure io Nel mio canal Ma che cazzo Non ti rompi in armi Ma dai un attimo di silenzio No Ma il masse Il drono Il drono Il drono E' qua che ha te rompi Oh I belgi tu di mio dio Eh aspetta aspetta No Dio dove è il masse Il drono No 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 la prima volta che riesce si la scelta entra è una cosa a lui entra sono tutti a sinistra ascolto me l'ho visto è come la bellevano tirati il c4 cazzo mi fate giocare un attimo è libero c'è lui c'è il mio elicóptero c'è la version qualcuno perché ho fatto un mira per centrare non lo so a sinistra si ma l'ho rotto il bendito ma non c'era la c4 la abba anche l'ho visto un attimo che sono impegnato eh ragazzi è ben di ten bomba si ma ti sta arrivando dalla porta ti sta arrivando dalla porta stavo ricaricando tutte copi la rotazione qui qua qua lui è qua apparentemente giusto è a terra credo poi poi tra parentesi tra poco pure noi noi siamo troppo forte senza senza coso siamo troppo forti come cazzo facciamo siamo bravissime ma i essi ma l'abbiamo vinto a partire con gente coltrono io non sono vuoteci quando facciamo un ex diamante mi stava tentando male mi piace ma io porco non l'ho capito 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 i droghi o fumigani no ha smirato quattro volte con che cagata che cagata ne finca ti metterà bambam bambam come 742 bello politico liti scusco portiamo su youtube ho vinto porti tre